Che uno quiere se pudiera alcanza Buena Vista Sociale 18 novembre 1907 Nasce sulla spiaggia di Siboney, vicino a Santiago la capitale del colorato oriente di Cuba con Pai II Compositore, musicista e cantante ottiene fama mondiale alla veneranda età di 90 anni con il film di Wim Wenders, Buena Vista Social Club Muore a Lavana nel 2003 Il film di Siboney, vicino a Santiago Il film di Siboney, vicino a Santiago